Oggi andiamo a vedere domande e risposte della lezione del 22 luglio 1970. Pubblico, Neville nella restaurazione dici che tutti sono uguali. Non ti ho mai sentito dire che ci sono state nascite dal grembo di una donna nella restaurazione. La domanda non era del tutto udibile sul nastro. Neville, la Bibbia insegna che se non sei risorto in questa sezione di tempo, allora continuerai a fare tutte le cose che fai ora qui. Ciò è affermato così chiaramente nel libro di Luca quando i saggi del giorno e i saducei fanno la semplicissima domanda di chi sarà moglie questa donna nella risurrezione Luca 20, 33? Perché ha sposato sette fratelli e non hanno lasciato figli. E la risposta è molto chiara. I figli di quest'età si sposano e sono dati in matrimonio. Ma quelli che sono ritenuti degni di entrare in quell'età non si sposano né sono dati in matrimonio. Perché sono figli della risurrezione. Essendo figli di Dio non muoiono più. Il che implicherebbe che tutto ciò che fanno qui lo faranno là, a meno che non siano risorti. Quindi se muoiono qui si ritrovano riportati in vita lì, in quella sezione di tempo in cui entrano. Ma invecchieranno anche lì come invecchiano qui. Ma lì non cominciano dal grembo di donna. Iniziano dalla tomba. Ma tu non vai in nessuna tomba. Sei già nella tomba quando sei qui. Questi corpi sono le nostre tombe. Domanda non udibile sul nastro. Neville Questa è la più importante. È il limite della contrazione. Questo è il limite completo della contrazione. Il limite dell'opacità. Ecco la contrazione. Gli uomini muoiono. E tu e io li guardiamo morire. Li vediamo morire. Cremiamo il corpo. È tutta polvere. E tuttavia quell'essere non è mai morto. Non a se stesso. Vengono ripristinate all'istante. E molti di loro non sanno nemmeno di essere partiti da questo mondo. Perché per loro non sono morti. Come puoi pensare a una persona che è molto viva? Tu parli con lui. Lui parla con te. E gli dici che è morta? Io non dico loro che sono morti. Gli dico sei morto in un certo momento. E sono stato al tuo funerale. E quello che indossi quando ti ho conosciuto. E ora sepolto o cremato. A secondo di quello che ne so. Lo negherebbero perché non sono morti. E non possono associare quello che sto dicendo con qualcosa che stanno sperimentando. Perché non hanno mai sperimentato la morte. Gli unici che sperimentano la morte sono quelli che li guardano morire. Posso guardare un uomo morire e seppellirlo o cremarlo. Sperimento la sua dipartita e la chiamo morte. Ma quello che è passato attraverso quello stato non è morto. Quando viene restaurato non sa di essere morto. Così nessuno sperimenta mai veramente la morte. Tranne quelli che guardano l'altro andarsene. E molti di loro non sanno nemmeno di esserne andati. Si stupiscono quando dico sono stato al tuo funerale. Pensano è pazzo. Ma nella scrittura tutti i veggenti sono considerati pazzi. Questo non è nuovo per me. Sono stato dappertutto. Quando ho iniziato sono andato in una libreria dove avevano esposto i miei libri. E c'erano due signori che guardavano la foto in vetrina ai miei libri. Alcuni dei miei libri. E una disse all'altra. Sai chi è? Lei rispose no. Beh è il mistico pazzo della trentotesima strada. Devi andare a sentirlo. È pazzo come un capellaio disse lei. Non sapeva che ero in piedi accanto a lei. Disse dovresti sentire quell'uomo. È pazzo. Ma non è violento. Così sono stato chiamato pazzo. E ho avuto un demone al momento in cui ho iniziato questo lavoro. Perché sono pazzo se nego l'evidenza dei miei sensi. E dico che non accetterò i detami dei miei sensi. Non accetterò la ragione. E in conflitto con ciò che voglio. Accetterò i miei sensi se stanno confermando ciò che voglio in questo mondo. E se non lo confermano li ignoro. E assumo uno stato in cui voglio sapere tutto ciò che i miei sensi confermano. E mi rivolgo al conoscitore che è la mia immaginazione. Quindi un uomo che nega i suoi sensi certamente è un po' toccato. Allora hanno detto di lui quest'uomo conosciamo suo padre, conosciamo sua madre, conosciamo i suoi fratelli e conosciamo le sorelle. E lui ci dice che è venuto dal cielo e ci dice che Dio era suo padre e che lui e Dio sono una cosa sola. Ebbene quell'uomo è pazzo e non lo sa. Leggilo nel libro di Giovanni. È chiaramente affermato. Domanda non udibile sul nastro. Neville, vedete? Noi pensiamo che con la morte fisica finisca qualcosa e con la nascita inizi qualcosa ma il tempo è più grande del piccolo spettro chiamato 60 e 10. È lo stesso mondo proprio come questo ed è questo mondo. L'anno 1000 esiste ora, non è passato. Esiste ancora adesso. Mi sono addentrato in sezioni di tempo che il mondo pensa abbiano cessato di esistere e altre che il mondo pensa non esistano ancora. Ma leggete il libro dell'Ecclesiaste. C'è forse una cosa di cui si dica, vedi questo è nuovo. Questa cosa è già stata in epoche passate ma ci ricorda delle cose precedenti. Ne ci sarà ricordo delle cose future tra coloro che verranno dopo. Ecclesiaste 10.11 In altre parole è già compiuto. La recita è finita. Il tutto è finito. Ed è stato portato al culmine. E così siamo venuti e veniamo nella storia umana. In quello strano, misterioso essere che chiamiamo Gesù Cristo. E alla fine ci sono solo Gesù e tu. Tu sei Lui. Pensiamo ora che siamo nel 1970 e guardiamo avanti all'anno 2000 e non sarebbe meraviglioso se si vivesse nell'anno 2000 e si celebrasse la fine del secolo. Ma è adesso. Potete partire da qui, diciamo nell'anno 1990. Non ho alcun desiderio di raggiungere alcun 1990. Per quanto mi riguarda, potrebbe arrivare stasera. Ma non ho alcun desiderio, onestamente, di andare molto oltre questo momento nel tempo. So che nel mio caso non sono restituito alla vita. Sto entrando nella nuova era vestito di quel corpo con cui ho molta familiarità. Che è un corpo perfetto dove, in sua presenza, nulla rimarrà imperfetto. Nulla. Non avete bisogno di nulla in quel corpo. E tutto è reso perfetto. Perché siete rivestiti di quel corpo del Signore risorto. Ma tutti quelli che non hanno avuto l'esperienza saranno restaurati. E non hanno bisogno di trovarsi se vanno via stasera, nell'anno 1970. A partire dal giorno dopo, potrebbero trovarsi nell'anno 1000. E potrebbero essere l'anno più adatto per l'opera che deve ancora essere fatta in loro. Perché può essere fatta meglio in quel momento che nell'anno 1971. Tutto il più glorioso, meraviglioso spettacolo e alla fine tutti saranno perfetti. E poiché c'è un solo corpo, un solo spirito, un solo Signore, un solo Dio e Padre di tutti. Efesimi 4.4 Non possiamo vantarci e supplicare di essere messi uno sopra l'altro. E io vi dico che il volto sarà come il vostro. Ma elevano all'ennesima potenza nella sua bellezza. Immaginatelo un personaggio che non vi sognereste mai di possedere in questo mondo. Avrete il volto umano come lo avete voi. Avrete la voce umana. Avrete mani umane. Non chiedere di più. Non puoi descrivere la forma. È luce, fuoco. Non ha nulla che le resiste. È in sé la vita di tutto ciò che vi circonda. Tu gli dai vita. Niente rimane morto in sua presenza. Una foresta pietrificata esploderebbe in fiore se tu vi entrassi. Un deserto arido esploderebbe in una gloriosa fioritura grazie alla tua presenza. Tu sei la vita. Ma il corpo stesso, beh, non si può descrivere. Ma avrà un volto umano. Una voce umana. E mani umane. Domanda fatta dopo la lezione del 23 luglio 1970. Pubblico. Potreste interpretare la scrittura? Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Neville. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Matteo 27, 46 e Marco 15, 34. Appare solo nel libro di Matteo e Marco. Non appare nei altri due Vangeli, beh, e nel Salmo 22. In altre parole, Dio non sta fingendo che lui sia te. Se sapessi di essere Dio e di recitare la parte che è la tua parte, allora non potrebbe essere un salvatore. Ha dovuto svuotare completamente se stesso di tutta la sua saggezza e la potenza per diventare te. Quindi non può fingere. Non è un attore che recita la parte. Lui è l'unico attore. Ma è così tanto nella parte che cessa di essere un attore che sa che sta recitando una parte. È diventato te nella forma più letterale. Quindi questo è il grido. Ma Luca non usa il Salmo 22. Luca usa il Salmo 31. Solo che non viene citato l'intero verso. Luca dice Nelle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai redento, Signore Dio fedele. Quindi ha gridato sapendo che è già redento perché ha avuto l'esperienza della redenzione. Ma la crocefissione, il primo atto, ha avuto l'uguale inizio. Non arriva la fine del drama, come ci viene detto nella storia. Ci viene detto nella scrittura Siamo stati uniti a Lui in una morte come la sua. Perciò saremo uniti a Lui in una resurrezione come la sua. Romani 6, 5 In altre parole, vedi il cambiamento di tempo. Siamo stati uniti a Lui in una crocefissione come la sua. Saremo uniti a Lui in una resurrezione come la sua. Quindi la crocefissione è finita. La resurrezione sta avendo luogo. Così, egli avverte Timoteo di coloro che insegnano che la resurrezione è finita, è passata. Che stanno ingannando il popolo e allontanando il popolo dalla vera fede. Dice anatema a loro perché insegnano che la resurrezione è già finita. No, si sta svolgendo uno dopo l'altro. Ma la crocefissione è finita perché quello è stato l'inizio del drama quando Dio è diventato letteralmente l'umanità. Non solo tu individualmente, ma l'umanità. E lì è crocefisso sulla croce dell'uomo e l'uomo è individuale, è redendo. Perché una volta è stato crocefisso con l'uno, ora è redendo nell'uno. Uno dopo l'altro viene richiamato nell'unico corpo, nell'unico spirito, nell'unico Signore, nell'unico Dio e Padre di tutti. Efesini 4, 4, 6. Quindi quel grido è un grido meraviglioso e non dovrebbe essere rimosso dalla scrittura, ma è solo in Matteo e Marco. Delle sette grida sulla croce, Matteo e Marco ne hanno considerato solo una. E questa è quella. Giovanni ne ha considerato tre e Luca tre. E Marco e Matteo hanno considerato le stesse parole sulla croce. Si parla delle sette ultime parole e non si tratta di una singola parola, ma una frase, un pensiero. Hanno considerato un pensiero che è la preghiera che Dio effettivamente, letteralmente, si è fatto uomo al punto che ha dovuto dimenticare di essere Dio e ha sofferto un'amnesia totale, perché se fosse rimasto consapevole di essere Dio, non avrebbe potuto recitare la parte. Una completa e totale donazione di sé. Come disse Blake in modo così bello, se io non muoio, tu non puoi vivere, ma se io muoio, io risergerò. E tu con me? William Blake, Gerusalemme. Egli risorgerà e voi risorgerete con lui, ma egli deve morire proprio come un seme. Se non cade in terra e muore, rimane solo, ma se muore porta molto frutto. Così lui è effettivamente fatto te. E poi risorge in te e grida sulla croce di te, perché tu sei la croce che lui porta. Deve confessare che non c'è una persona al mondo che possa onestamente dire, finché non ha la risurrezione, che sa di essere il Signore Gesù Cristo. Quindi è totalmente inconsapevole della sua vera identità e sta gridando a un Dio al di fuori di se stesso. Quindi in realtà sta dicendo Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché non sa che lui è Dio, fino alla risurrezione. E quando rompe i legami della tomba sa chi è. Fino ad allora anche lui dice, senza l'uso di parole, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ogni madre che dice a Dio a un figlio piccolo alla porta della morte si chiede perché Dio non ha risposto alla sua preghiera. Tu dici a Dio, a tua madre, a tuo padre, a tuo fratello, al tuo amico e ti chiedi perché, perché Dio, perché? Chiamando un altro Dio. Quindi questo è il grido sulla croce perché questa, riferendosi al corpo fisico, è la croce e porteremo questa croce fino alla fine e poi risorgerò da essa. E io racconto la storia. Alcuni ci credono, alcuni non ci credono, ma io continuerò a raccontare la storia fino a quando lui me la toglierà per l'ultima volta e allora sarò rivestito del corpo divino. Domanda posta dopo la conferenza del 24 luglio 1970 Pubblico Quando dici scendere, scendere sotto, cosa intendi? Beh, queste sono solo figure retoriche, certamente non dal cielo perché il cielo è dentro di voi. Come ci viene detto nel diciassettesimo capitolo del libro di Luca è il regno dei cieli è dentro di voi. Luca 17, 21 Nella scrittura sopra e dentro sono la stessa cosa e sotto e senza sono la stessa cosa. Se indico lì quella è senza e quello è nella scrittura sotto ha detto io sono dall'alto quindi sono dentro di voi voi siete dal basso Giovanni 3, 23 quindi siete fuori. Quindi ovunque io indichi nel mondo esterno quello è al di sotto del punto dove lui si trova. Lui sta dentro Dio è dentro di te il suo nome da sempre e per sempre è io sono. Quando parlo di scendere intendo scendere nella coscienza a livelli sempre più basi di consapevolezza fino al livello chiamato nelle scritture morte perché Dio è infinito in potenza e può superare anche la morte e per diventare uomo il limite della contrazione Dio assume la tomba per dimostrare la potenza infinita che è Dio perché non c'è limite alla sua espansione ha posto un limite alla sua contrazione alla sua opacità ma nessun limite alla sua espressione o traslucenza così quando si raggiunge il limite della contrazione allora cominci a espanderti se Dio non potesse espandersi oltre ciò che è ci sarebbe un eterno fallimento ma Dio è in continua espansione nel suo stesso piano Egli crea il piano realizza il suo proprio piano e si espande questa è la gioia della creazione Dio è un creatore quindi non intendo scendere nel senso di venire dalle stelle perché tutte le stelle infinite come sono e lontane trilioni di anni luce sono ancora senza quindi sono sotto Dio è dentro domanda di una signora non udibile sul nastro ma che ha a che fare con i vestiti di lino e gli abiti di lino sono il corpo fisico nelle scritture è scappato ed è ancora nudo non era ancora stato rivestito del corpo divino del Signore Gesù Cristo possono portarti via il corpo e sarai nudo per quanto riguarda quel mondo devi essere vestito per essere veramente rivestito della veste nunziale per entrare nel regno dei cieli devi essere rivestito del corpo del Signore Gesù Cristo alla fine c'è solo un corpo un solo spirito un solo Signore un solo Dio e Padre di tutti Efesini 4.4.6 così oggi molte persone soffrono per la parola di Dio e prenderanno il corpo fisico come molti dei nostri missionari che sono stati martirizzati presero loro le vesti di lino che la madre teseva per loro e li lasciarono in un certo senso nudi perché non sono ancora rivestiti del corpo di Gesù Cristo ma lo saranno domanda non udibile sul nastro ma è riferita agli angeli ai testimoni presenti alla nascita di Cristo bambino Neville queste sono tutte belle immagini quando sono risorto dal cranio e sono uscito dalle vesti di lino sono apparsi i tre fratelli e c'erano gli angeli venivano da lontano se l'avete preso alla lettera erano a 5.000 miglia da qui se si prendesse la storia alla lettera sarebbe quasi impossibile per i pastori fare il viaggio nel breve intervallo tra l'apparizione dell'angelo e la scoperta del bambino quindi vennero in spirito come detto nel secondo capitolo del libro di Luca quando Simeone venne in spirito al tempio Luca 2.27 perché tutto si svolge nel tempio di Dio voi siete il tempio di Dio perché tutte le cose esistono nell'immaginazione umana quindi sono venute umanamente da lontano ma sono comunque sempre in te quando il drama è pronto a scoppiare in voi verranno e la storia si ripresenterà in voi quindi non date credito a questo o a quello o all'altro tutta la storia è dentro di voi domanda non udibile sul nastro sul pentimento Neville mia cara sei invitata nella scrittura la primissima parola messa in bocca al Signore Gesù Cristo nel primo vangelo che è il libro di Marco nell'impostazione canonica Matteo viene prima ma nell'effettivo ordine cronologico Marco è il più antico dei vangeli quindi la prima parola messa in bocca a Gesù nel libro di Marco è convertitevi il regno dei cieli è vicino il tempio è compiuto il regno dei cieli è vicino convertitevi e credete al vangelo Matteo 1.15 bene la parola pentirsi non significa provare il rimorso non ha niente a che fare con il rimpianto la parola è metanoia che significa per traduzione letterale un radicale radicale cambiamento di atteggiamento un radicale cambiamento di mente che mette alla prova la capacità dell'individuo di entrare nell'esatto contrario di ciò che vede con i suoi sensi ora fatelo perché siete invitati le primissime parole del Signore sono per farsi che l'individuo usi il talento che è in se stesso che è la sua immaginazione quindi usa la tua immaginazione per portare un cambiamento radicale di atteggiamento verso gli effetti verso il mondo in cui vivi e nella misura in cui riuscite a cambiare questo atteggiamento mentale il mondo cambierà per confermarlo questo è il pentimento come lo conoscono i mistici non ha niente a che vedere con il rimpianto o il rimorso non esige mai penitenza da nessuno tutto il segreto di Cristo è il perdono questo è il pentimento egli vince con il pentimento conquista con il perdono questo è il segreto del cristianesimo vedete qualcuno e non sta bene non lo incolpi non lo sgridi a causa di uno stato precedente che è sfociato ora nella sua malattia semplicemente te lo rappresenti nell'orecchio della tua mente come vorresti che fosse supponiamo che quell'individuo che ora è un estraneo totale sia vostra madre non la critichereste perché amate vostra madre e fareste per vostra madre ciò che forse non fareste per un estraneo bene imparate a fare per l'estraneo quello che fareste per vostra madre se la mamma mi chiedesse qualcosa non avrebbe chiesto nulla al di fuori della regola d'oro perché non poteva concepire di chiedere al figlio che amava di fare qualcosa che l'avrebbe messa in imbarazzo o che avrebbe portato vergogna al suo nome quindi sarebbe sempre rientrato nella regola d'oro fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te bene allora è un estraneo tua madre fatelo e nella misura in cui sarete convinti della realtà di ciò che avete fatto nella vostra immaginazione a quel punto saranno cambiati e l'ambiente in cui vivono sarà cambiato per conformarsi al cambiamento in loro tu lo fai e lo realizzerai con la tua immaginazione e la tua fede la fede è l'appropriazione soggettiva della speranza oggettiva che cosa voglio cosa spero per mia madre bene allora me ne appropio soggettivamente e questo è praticare il pentimento dice a tutto il mondo pentitevi ma credete alla storia la buona novella che si chiama vangelo credete alla buona notizia della salvezza perché è giunta al mondo il tempo è compiuto e il regno dei cieli è vicino Marco 1 15 quindi il culmine è stato raggiunto potete dimenticare ciò di cui parla il mondo il culmine la redenzione è arrivato è stato fatto Dio ha completato l'atto di redenzione e quindi non c'è possibilità di fallimento per nessuno al mondo perché lui è diventato tutto io mi fermo qui e domani partiamo con una nuova lezione grazie a tutti ciao domani grazie grazie a tutti